Da molto tempo si parla costantemente di Cina, soprattutto per quanto riguarda le sue relazioni internazionali con gli Stati Uniti, il grande scontro in atto diplomatico, ma non solo, con l'Unione Europea, con la quale si sono svolti lunghissimi trattati, ad esempio per un accordo economico che ancora non è stato realizzato, e con l'Italia stessa, che da prima aveva firmato un memorandum of understanding con la Cina, per poi allontanarsi e recuperare la propria rutta atlantica. In realtà però il modello cinese sembra sempre più complicato da maneggiare per l'opinione pubblica e per la stessa stampa, perché al di sotto della superficialità con la quale spesso la Cina viene affrontata si stanno muovendo moltissime cose. Il paese è in grande trasformazione, possiamo dire che effettivamente siamo di fronte a una Cina nuova rispetto a quella a cui siamo sempre stati abituati. Ci sono nuove parole d'ordine, nuove caratteristiche della società, nuovi sistemi produttivi, più attenzione a certi temi rispetto ad altri, e nello stesso tempo la Cina cambia, e cambiando cambia anche la sua percezione di quanto sta intorno, e cambia anche il messaggio con il quale parla a noi occidentali. Per comprenderlo al meglio è necessario capire che cosa sta succedendo nella Cina. Nella Cina nuova, in libreria dal 23 settembre per la terza, prova ad esplorare alcuni elementi che dal nostro punto di vista occidentale appaiono realmente contraddittori. Pensiamo semplicemente a come i cinesi definiscono il proprio modello, socialismo di mercato, due parole che dal nostro punto di vista sembrano quasi rappresentare uno simolo. Allo stesso tempo la Cina è il paese delle città futuristiche, megalopoli avanzatissime dove circolano veicoli a guida autonoma, dove si fa tutto con lo smartphone o con il riconoscimento facciale, ma convivono anche zone rurali molto arretrate, nelle quali però arriva proprio la rete, l'e-commerce, tutta una serie di fenomeni che rendono l'idea di quanto alcune nuove caratteristiche stiano solcando il paese, ad esempio l'attenzione all'ambiente o il ritorno nelle campagne da parte dei giovani, che significa anche quindi un contrasto ai ritmi delle megalopoli cinesi, alle proteste sul lavoro, a tutti i cambiamenti che stanno attraversando la società cinese. Nella Cina nuova prova ad esplorare questi apparenti contrasti, come ad esempio ordine, caos, meritocrazia e corruzione, apocalypse, cioè inquinamento selvaggio e grande impegno nell'energia rinnovabile contro il riscaldamento globale. Tutte contraddizioni dal nostro punto di vista che in Cina invece convivono in un gioco continuo di rincorse che producono una nuova opinione pubblica e che producono soprattutto un nuovo messaggio da parte della Cina, che faremo bene ad ascoltare per capire che cosa la Cina ci sta dicendo nel momento in cui parla a noi, all'Occidente.